C'è stato un tempo in cui dare una mano a qualcuno, regalare un sorriso, far sedere un anziano solo alla propria tavola occupava una parte della tua vita, ma non era la tua vita, c'era lo studio, i sentimenti, progetti per il futuro, finché non è arrivato il momento in cui hai guardato tua figlia, hai guardato i tuoi nipoti, hai guardato i figli del mondo scorrazzare allegri in un giardino pubblico e ti sei detta, che cosa gli lasceremo, che mondo gli lasceremo, e allora prendi una decisione, quella che prima era solo una parte della tua vita è deciso di farlo diventare lo scopo della tua vita, io ho un sogno, non so se vuoi farlo diventare il tuo sogno, quello che so è che oggi è possibile realizzarlo perché esiste un programma, il programma del Movimento 5 Stelle, conosco le vostre paure perché talvolta sono state le mie e mi chiedo se volete provare a darci una possibilità, mi chiamo Maria Pica, sono un attivista del Movimento 5 Stelle dal 2012 ed oggi più che mai scelgo di candidarmi perché sono pronta a dare tutta me stessa, il mio coraggio, la mia testartaggine, la mia perseveranza, la mia forza, il mio amore, la mia competenza e la mia esperienza per realizzare il nostro sogno, se vuoi seguirmi nel mio percorso. Grazie